Musica Ancora una volta la musica a favore della ricerca del Negri Sud. Questa volta sarà la musica antica dell'Ensemble 900 a richiamare il pubblico nella chiesa di Santa Giovina Lanciano con la riscoperta degli autori abruzzesi del 600. Pierluigi Mencattini e Giovanni Rota ai violini barocchi, Giovanni Lamarca alla viola da gamba, Maurizio Ria al violone, Michele Carreca e Dimitri Goldobin alle Tiorbe e Walter d'Arcangelo a organo e cembalo. Interpreteranno due sonate di Michele Mascitti, quattro toccate a cembalo solo di Carlo Contumacci, una sinfonia di Pietro Marchitelli e soprattutto, in prima esecuzione assoluta, cinque mottetti di Giuseppe Corsi da Celano. Con loro anche il soprano Claire Decaux, il mezzo soprano Lorraine Huet, il contralto Matthew Perenne, il tenore Paolo Ricucci e il basso Riccardo Ristori eseguiranno cinque mottetti per soprano solo, tre o quattro voci, trascritti e realizzati strumentalmente da Dimitri Goldobin nel pieno rispetto della prassi esecutiva del tempo. Per Luigi Mencattini. Presenteremo per la prima volta in Abruzzo, da me ritrovati, dei mottetti originali di Giuseppe Corsi da Celano, quindi siamo intorno agli inizi del 1700. Quindi questi sono mottetti per voci e strumenti, infatti ho chiamato all'appello alcuni dei musicisti dell'Accademia di Basilea e dell'Accademia di Parigi. Quindi sarà sicuramente un bellissimo concerto. Qual è il sapore della riscoperta di questi brani così antichi? Beh, sicuramente affascinante. Poi il fatto che siamo ormai nel territorio da circa 18 anni, abbiamo presentato oltre a questa cosa do di domani, molti altri inediti. Domani sera presenteremo come prima esecuzione, non come inedito, le toccate a cembrano solo di Carlo Cotumacci di Villa Santa Maria. Quindi ce ne è un po' per tutti. Grazie a tutti.